L'ordine degli ingegneri di Teramo non molla sull'acqua del Gran Sasso. Dopo aver avanzato una richiesta di accesso agli atti e agli organi competenti per ottenere informazioni ambientali sull'approvvigionamento potabile del sistema idrico gestito dalla Ruzzoreti, il presidente Alfonso Marcozzi polemizza sulle risposte ottenute e su quelle non pervenute. Ha detto chi è che ha risposto, ha risposto la regione, ieri siamo stati lì con il dirigente, l'ingegnere Domenico Longhi che voglio ringraziare per la tempestività e per la chiarezza delle informazioni che ieri ci ha passato, ha risposto l'AS per quello che poteva rispondere, ma il soggetto più importante è quello che ci chiede soldi per erogare un servizio, quello che dovrebbe assicurare che questo servizio sia tale a garantire la salute e quindi che l'acqua abbia quelle caratteristiche, nulla ci ha consegnato ma perché nulla ci ha consegnato molto in mente. Non certo forse per pigrizia, forse perché devono tenere in caldo le poltrone o forse perché non conoscono il sistema, quello che poi ieri nei fatti la regione ci ha documentato, il sistema non è conosciuto. Ma questa è una sua supposizione? Non è la mia supposizione, è scritta nel documento che ci ha rimesso la regione, avevano istituito una commissione sin dal 2002, quando ci fu quell'inquinamento importante e noi già allora facemmo accesso agli atti perché non è la prima volta che lo facciamo, già allora seguimmo alcuni interventi, quella commissione ha prodotto carta, adesso ne viene introdotta un'altra commissione per fare che cosa? Questo ci era garantito Longhi e da questo punto di vista ci ha assicurato che da qui a qualche mese saremo nuovamente interpellati per capire come questo tassello comincia a costruirsi, questo sistema delle conoscenze comincia a dare quelle corrette informazioni che in maniera predittiva devono salvaguardare quel bene primario che è l'acqua. Infine, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, un passaggio polemico lo riserva all'Ato di Teramo e all'Ersi, enti regionali preposti al controllo idrico. Su questo argomento va precisato che l'Ersi è nato come ente unico al fine di accorpare tutti gli atoprovinciali, questi ultimi però per il momento sono ancora operativi. E intanto l'Ato e l'Ersi che cosa fanno? L'Ato e gli Ersi riscaldano le sedie, i bracci operativi della regione che dovevano intendere su questo processo non so negli anni cosa hanno fatto, perché l'Ato doveva preoccuparsi del sistema, se fosse noto, e il tipo di liquido, quindi anche venisse erogato ai cittadini. L'Ersi di nuova costituzione, il braccio operativo, mi sembra che sia al momento uno scatolone vuoto, forse per ripartirsi qualche soldino a fine dell'anno.